L'esercito iracheno aumenta l'intensità della campagna militare per la conquista di Fallujah a 50 km da Baghdad. La città caduta in mano agli jihadisti dell'autoproclamato Stato Islamico subisce l'intervento delle forze di terra che giorni e giorni scorsi avevano circondato questa roccaforte dell'Isis in Iraq. Oltre 800 persone che sono scappate da Fallujah negli ultimi due giorni hanno ricevuto beni di prima necessità forniti dall'ONU. Al-Ahin parla delle condizioni di vita della popolazione locale. Nella mia regione sono due anni e mezzo che le famiglie subiscono la presenza dell'Isis che ha chiuso tutte le vie di accesso e di uscita alla città. Racconta per la gente sono cominciati i problemi psicologici, tanti hanno scelto il suicidio, alcuni si sono dati fuoco, altri hanno annegato i loro figli. Mentre si prepara l'assalto finale a Fallujah nel nord del paese, le forze kurde appoggiate dall'aviazione della coalizione internazionale a guida statunitense avanzano verso la parte settentrionale della città di Mosul. La seconda città del paese è ancora Emmanuel Isis. Un'offensiva è stata lanciata alle prime ore del mattino di domenica. Circa 5.500 combattenti peshmerga hanno riperso il controllo di tre villaggi della periferia preparando il terreno all'assalto finale. Grazie.